E' un po' di ritorno. Quando ero 15 anni, non ero scemo, ma ero scemo. Ma ero scemo? Secondo me, quando ero 15 anni... E' un po' di ritorno, non ero scemo. Secondo me, quando ero 15 anni, ero più scemo, ma si capisce? No. E' un po' di ritorno. E' un po' di ritorno. E' un po' di ritorno. Come ti facevi padre? No, buona mamma, ti fa so. E come ti facevi? E' stupendo buono. Mamma ti facevi. E' un po' di ritorno, che viveva nostro figlio da qui. E' normale mamma te, no. Papà ci piaceva combare. A mamma ci piaceva combare, e a mamma ci piaceva combare. E io ne ho fatti di comba, e tu faceva combare. E ora ora come le signorine. come il signorino, che bello costito, è come il bello quando era giovane, le ciali da come sono bello, come sono bello come il bello io ho giocattinato anche ancora quando ero giovane ma ti hanno ancora giocattini quando ero giovane costito quando ero una maestra ti hanno ancora giocattini quando ero giovane ma tu ti ne conservato in d'armatica in d'armatica come la chiamata? migaline migaline sorda non ti ha vinto? non ti ho vinto un vestito però non mi chiede io ho giocattini ancora sull'aggettino adesso non ti ho vinto adesso non ti ho vinto, ma che regge sui tu sei ancora un vestito? no, io ho giocattini ah, non ti ho vinto ma di cari non ti ho vinto solo non ti ho vinto non ti ho vinto solo non ti ho vinto solo non ti ho vinto ah, allora, guardate che solo non ti ho vinto oh, ci hai fatto zoom, guarda la segreta l'occhio tutto buon, sì, l'occhio sono l'elefante e mi nascondo l'elefante faceva a... a buonio migliorno in una scuola a buonio c'è amico a buonio c'è amico a buonio c'è amico oi, tu come ti chiamati? in Genoefa eh solo Genoefa non no Alfano e Genoefa Alfana e Alfana come ti chiamati? mi chiamiamo Alfano Genoefa eh e invece e quanti anni ti hai Alfano e Genoefa? e invece poi mi chiamati Genoefa eh quant'anni ti hai? 80 quanti? 80 quando sei nata? i 3 e 1 e 40 3 e 1 e 40 non hai poco 81 tu non hai fatto 81 picciò non hai poco faccio 81 ma... e tini nepotano? come? quanti nepoto ti hai? ehi 84 ehi ehi quanti nepoto ti ricordo? sei a posto? una cinque cinque nepoto? e come si chiamano? due Giovanna uno Salvatore una terrianna io quindi come si chiamano? io quindi da nascere ancora i ciali Giovanni 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 Salvatore poi Giovanni Paolo e poi Giovanni Paolo eh vabbè nessuno chiamano? Arianna e la quinta io quinta chi è? trovami dai io si riesci a capire chi è quinta è già lui eh due volte non mi sento dicendo mamma mia a voi a furbacchio io vengo a gioia al centro della mese sono le nove meno dieci sempre stamana mi faccio mamma mia si esagerò perché 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 eh che occhio guarda qua sono le elefante ma questo ingerì che non uscisse casetto ingerì è io non mi faccio ma ragazzi ma ragazzi sì 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 Grazie a tutti.